Dalla 21 dicembre al 21 gennaio l'Auditorium Parco della Musica di Roma ospita la mostra Come onde del mare, incontri senza confini. Racconta, attraverso l'utilizzo di fotografie, video, suoni e testimonianze, il primo anno di ricerca e di soccorso della nave Life Support the Emergency nel Mediterraneo centrale, una delle rotte migratorie più pericolose al mondo. In collaborazione con la Fondazione Musica per Roma, l'esposizione, entrata gratuita, raccoglie una selezione di immagini di Giulio Piscitelli, Gabriele Michalizzi, Dario Bosio, Davide Preti, Francesco De Scisciolo e Giorgio Dirindin, i fotografi saliti a bordo negli scorsi mesi. Con le immagini e i suoni Emergency vuole offrire al visitatore un'esperienza completa che faccia comprendere cosa succede durante i salvataggi in mare dal punto di vista delle persone soccorse e di chi soccorre. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, sono oltre 22.000 le persone morte o disperse nel Mediterraneo centrale dal 2014. Una strage contro cui Emergency chiede una missione europea di ricerca e soccorso che tuteli la vita delle persone e sappia valorizzare anche il contributo della flotta civile e vie legali e sicure d'accesso all'Europa.